Ciao a tutti e da un po' di tempo che ho questo video pronto, quello con Filippo Baldirossi, giocatore del Trento, ho fatto il solito test. Un test dove abbiamo fatto una prima serie di 10 tiri, guardando la tecnica di tiro, guardando la parabola e guardando anche il tempo di rilascio. Quindi vediamo su questa prima serie che Filippo ha un'ottima parabola, proprio quella del libro, un bel movimento, però un tempo di rilascio un po' troppo lento. Abbiamo fatto una media sulla prima serie, ha avuto una parabola abbastanza costanta, sempre attorno a 45 gradi e un tempo di rilascio di 1 secondo e 9 centesimi. Poi dopo aver attirato la tensione su alcuni particolari, il tempo di rilascio migliore che ha fatto era attorno a 70 centesimi e anche lì alla fine della seconda serie abbiamo fatto una valutazione vedendo che aveva una parabola più bassa, probabilmente legato al fatto che piegava meno le gambe, aveva meno tempo, per un tempo di rilascio 30 centesimi più veloce. Ovviamente anche le sue percentuali si sono abbassate. Quali sono gli aspetti che Filippo può migliorare? Abbiamo fatto un tiro al rallentatore e possiamo vedere che nel momento in cui riceve la palla ancora deve mettere i piedi a posto e ha bisogno di 30 centesimi proprio per mettere i piedi a posto. Poi ovviamente il tiro di Filippo è perfetto, però potrebbe ancora abbassare il suo tempo di rilascio avendo i piedi pronti. Questo era l'obiettivo di questo video, di farvi vedere come possiamo lavorare. Grazie.